Un caro saluto da Mario Giulianci, il clima del pianeta sta sicuramente cambiando e è giusta questa nostra preoccupazione per questi cambiamenti, sta cambiando nel senso che le temperature del pianeta stanno aumentando in maniera vertiginosa, molto più rapidamente di quanto è avvenuto negli anni recenti, per quale motivo? Perché stiamo consumando petrolio in quantità esponenziale e crescente di anno in anno, voglio dire il petrolio consumato quest'anno è di gran lunga superiore a quello consumato l'anno passato e così sarà nel 2019-2020, il petrolio consumato sarà maggiore di quello consumato nell'anno precedente e quindi la concentrazione di gas SR sarà in aumento in maniera esponenziale, tant'è che nel 2018 per la prima volta è stata raggiunta una concentrazione di 400 ppm parte per milione, ossia un valore di gran lunga superiore a quello che era già negli anni 60-70 quando avevamo concentrazione intorno ai 360 ppm. E questa concentrazione salirà in maniera esponenziale perché dicevo il petrolio verrà consumato in maniera esponenziale almeno fino al 2030-2035 quando finiranno i giacimenti di petrolio ormai saranno prosciugati. E quindi il peggio dal punto di vista delle conseguenze di questo surriscaldamento sul clima del pianeta si avvertiranno soprattutto negli anni a venire, qualche premessa già l'abbiamo avuto, qualche avvertimento già l'abbiamo avuto perché abbiamo visto dei fenomeni strani anche in Italia nel 2018, pensato a quella strage di milioni di alberi sulle Alpi, un evento a memoria d'omo mai avvenuto. Allora ci dobbiamo aspettare eventi catastrofici, ossia molti più nobifragi, molti più alluvioni, estante con temperature che raggiungeranno anche i 45 gradi. Eh sì, potrebbe darsi negli anni 20, 2020-2030 potrebbe darsi che questo capiti. Capiterà senz'altro se non avremo qualche aiutino esterno. Cosa intendo dire aiutino esterno? Sul clima del pianeta ovviamente interviene sì l'effetto gas serra, ma intervengono anche delle cause naturali. E tra le cause naturali, quella più passente, quella più decisiva, quella in grado quasi di contrastare l'incremento dovuto ai gas serra, è l'attività del sole. E vi è una novità positiva perché l'attività del sole negli ultimi 10 anni è andata continuamente decrescendo. Tant'è che in questi anni 2018-2020 stiamo toccando il valore più basso degli ultimi 100 anni. Beh se andrà avanti così senz'altro il sole ci darà una mano nel senso che tenderà a raffreddare il pianeta, ma raffreddare il pianeta non significa che ritorneremo agli anni 50-60. L'aumento che già abbiamo avuto resterà, l'aumento di temperatura seguità a crescere, ma invece di crescere negli anni 2020 di 2 gradi, magari crescerà di 1 grado perché il sole tende ad attenuare questo ulteriore sorriscaldamento. Ecco perché io sono ottimista, vedo positivo, dico sempre secondo me non moriremo tutti bruciati. Vi è piaciuto questo video? Bene, allora iscrivetevi qui, ma se volete vedere altri miei video su argomenti interessanti analoghi, allora vedete qui e qui, vedete qui e qui, vedete qui e qui, vedete qui e qui.